ciao questo è il solito video che che faccio quando riesco a guardare qualche film nuovo che mi sono andato a recuperare questo film che si chiama la società americana dei magical negros che è un film è nuovo come film che di quest'anno che come genere tocca la solita commedia fantasy che che ha visto che adesso l'anno lo hanno messo sulle solite piattaforme l'ho voluto andamelo recuperare guardare dedicargli questo video sul mio canale che dura come film dura anche un'ora e 45 quasi 143 quei 104 minuti di film che la parte della regia il regista di questo film e questo cobi cobi libbi che più che altro la a farla mai breve la trama parla più che altro di questo giovane aren che viene reclutato in una società segreta di neri magici che dedicano la propria vita a una causa della massima importanza cioè rendere più facile la vita la vita dei bianchi che a farla breve la la trama in sé del film era questa qua che visto che adesso l'hanno messo sulle solite piattaforme come film l'ho voluto andarmelo recuperare che se qualcuno ha qualche abbandonamento lo può recuperare anche gratis come film che non volevo mai dire particolari sul film essendo un nuovo come film non volevo mai fare qualche spoiler però anche se non è male il il mio il mio gene come film però da parte mia mi ha piaciuto anche sembra è la solita o film commedia fantasy che oltre a maria l'america porto come paese di produzione la danimarca anche come attori da parte mia anche come film a me ha piaciuto come ha fatto come si svolge anche la trama durante durante il film anche come sono girate anche le scene però la parte maria delle attori da parte mia non ne conoscevo nemmeno uno però sicuramente qualcuno di voi ne riconoscerà qualcuno che come al solito vi lascio sempre sotto in descrizione tra tra il video trailer il cast degli attori che hanno partecipato e se riesco a trovare qualche altra informazione maria in più sul film trovati tutto sotto in descrizione che più che altro come ho detto prima più che altro la trama in sé del film e a questa quadra basata ma lei su questo giorno su questo giovane a hen che che viene reclutato in questa società segreta di neri magici che dedicano proprio la la loro vita a causa a una causa della massima importanza che lo scopo è rendere più facile la vita dei bianchi che a questa quali poche parole la trama proprio del film che non volevo dire proprio scendere nei particolari sennò di emretto bene tutto svolgimento della trama mora e viene se non viene un video troppo lungo però poi come si dice la trama in sé del film e a questa qua che vi lascio come ho detto prima tutto sotto in descrizione tutte le informazioni delle film che come film è stato distribuito da questa universal universal picture che come si dice che come film è stato rilasciato a metà marzo del 2024 come film però adesso lo si può trovare sulle solite piattaforme sulle solite piattaforme come ho detto prima che come si dice che la trama la trama in sé del film è questa qua che ho visto che anche dalle recensioni che ho letto che ha quelle poche recensioni che ho visto come si dice che a certe persone come film era anche piaciuto che mi ha dato mora è un po' quando mi ha aiutato mora è andarmelo mora è più che altro a ricoprarmelo anch'io come film e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detto al massimo ci vediamo come al solito più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao